Recupero Pasquale per quanto riguarda Bitcoin, recupero nel giorno di Pasquetta dopo il touch di un minimo importante. Bene ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, un video non di lunedì ma di martedì perché siamo in clima pasquale ragazzi. Io ho messo la mia maglia porta fortuna, il touch the moon in questo caso. Speriamo che ci possa portare fortuna perché Bitcoin sta provando con molta difficoltà, sono sincero, a reagire un po' alla fase di bassista che ha incatenato i mercati cripto nelle ultime due settimane. Questa reazione ci sta perché siamo nella fase finale del ciclo mensile che poi tra l'altro in questo caso è anche un ciclo superiore, giusto per accennarvelo, perché è un ciclo trimestrale perché sono tre mensili insieme che potrebbero dare fiato al mercato per l'ultima possibilità di andare a fare il famoso touch dei 52, 56 mila dollari che è un livello che potrebbe in effetti raggiungere ed è molto importante ragazzi come vi sto ripetendo veramente da un po' di tempo è importante raggiungerlo prima della fase di chiusura dei cicli annuali che dovrebbe essere verso l'estate. Ieri ho fatto un video in auto mentre in viaggio ragazzi l'ho pubblicato sul canale Telegram un po' per aggiornarmi su questa cosa, vi dicevo anche lì del fatto che il minimo di ieri potesse essere in effetti un minimo accettabile per un po' in una reazione ma che comunque fino al 20, 21 più o meno c'era ancora tempo di attendere. Bitcoin ha reagito, va bene così, oggi andiamo a fare tutte le analisi classiche, andiamo a vedere una serie di cose perché abbiamo sia le analisi di tutti i grafici che già vedete impostate qui alle mie spalle, quindi i soliti Bitcoin, Nasdaq 100, Ethereum e Total Market Cap della DeFi ma non è solo questo perché vi faccio vedere anche una figura di inversione che sta disegnando il mercato cripto ne parliamo che si chiama Labber Plug e la andiamo ad accostare su quanta probabilità ha di verificarsi nei prossimi mesi soprattutto perché è una figura estremamente rischiosa ma poi vi ho conservato anche un dato macro cioè il dato relativo agli exchange e al flusso di Bitcoin e di Ethereum che vanno fuori dagli exchange che è un dato macro positivo che conferma la solidità del mercato e le criptovalute nel lungo periodo come sempre anche in base al video, super video che abbiamo fatto la scorsa settimana stra piaciuto praticamente il record dei mi piace su questo video ragazzi anzi ve lo metto sulla mia testa che ancora non l'aveste visto cioè cosa aspettarci fino alla fine dell'anno è un'analisi macroeconomica stratosferica molto importante anche quel video là io vi ho spiegato la differenza fra una visione di lungo periodo che ha delle fondamenta secondo me nel settore cripto stratosferiche e una visione invece di breve che sta da qui a sei mesi che è un po' scricchiola ed è estremamente pericolosa va bene non ci perdiamo in grande ciance faccio anche il gioco del mio vediamo che è uscito, è uscito croce è uscito bitcoin va bene va bene va bene ragazzi allora andiamo subito a vedere quelli che sono i grafici iniziamo dall'analisi ciclica, dall'analisi tecnica di bitcoin perché sta facendo questa reazione che cos'è questa reazione? ha confermato una reazione? al momento no perché deve superare ancora alcuni livelli già ve lo dico il livello è intorno ai 42 mila dollari se non lo supera questa reazione è una praticamente un pump and dump pasquale perché è venuto a Pasqua e Pasquetta quindi questi due giorni in pratica li possiamo anche cancellare non c'era nessuno lì e se infatti io vi elimino quelle che sono le shadow per esempio delle candele in questione che sono molto un po' nell'ambito cripto ragazzi sono sempre un pochettino manipolate nei giorni in cui non ci sono gli istituzionali sono chiuse le borse insomma è un po' così vedete che qui in sostanza non è successo niente il mercato è allo stesso livello di prezzo sostanzialmente da circa una settimana qual è la situazione? l'attesa della chiusura di questo ciclo da 90 giorni quindi un trimestrale che poi ha una M molto evidente che sta disegnando la classica M delle strutture cicliche con questo spike rialzista quindi molta volatilità non in termini di ampiezza perché ragazzi il mese di aprile al momento è il mese con la minore volatilità degli ultimi 18 mesi dei mercati cripto volatilità vera però ha fatto tanti movimenti su e giù quindi non è quella la volatilità come si misura a livello matematico ragazzi non si misura quando il mercato va su e giù ma dall'estensione dei movimenti estensione dei movimenti che sono stati molto piccoli in sostanza ragazzi perché in pratica è andato da 40 da 38 circa 44 cioè insomma questo ha fatto che nell'ambito dei mercati cripto sono volatilità estremamente ridotte rispetto alla loro media ora la situazione della fase di ripresa è sempre la stessa attesa della chiusura di questa fase ciclica che è un po' brevina qui ragazzi allora il problema è proprio questo sembrerebbe cioè questo minimo è sufficiente ad aver chiuso una fase è un minimo giusto intorno ad aria 38,5 è un minimo che rispetta tutti i miei parametri anche relativi alle strategie che stiamo seguendo in Academy ovviamente i ragazzi lo sanno già siamo anche long proprio un long un po' particolare ragazzi perché non è un long che ha grandi aspettative ve lo dico molto chiaro con una piccolissima parte giusto per starci perché se il mercato dovesse poi ripartire e siamo fuori dal carro poi ci troviamo spiazzati quindi abbiamo rischiato una posizione insomma pochissimo proprio per starci dentro però ve lo dico però è un long veramente complesso quindi non si può gestire diciamo se non siete trader e soprattutto non è seguibile insomma ecco sul canale ragazzi ve lo dico in maniera molto chiara perché è possibile che magari cambia nell'acqua di poche ore quindi non possiamo poi aggiornarlo sul canale YouTube però l'idea di fondo è questa attendere la chiusura di questo ciclo che è fatto così per poi ritornare long se Bitcoin dovesse successivamente a una ripresa esagerare con la fase di alzista e come ragazzi andando a confermare il breakout nuovo di questo livello di massimo facendo quindi la terza onda perché questa è stata un'onda poi la seconda onda facendo quindi la terza onda fino a qui per poi andare a chiudere e raggiungendo il target tra 52 e 56 che dovrebbe essere accettabile per poi portarci alla chiusura del ciclo annuale se non raggiungiamo questo target e le questioni su Nasdaq si mettono male ve lo spiego fra due minuti ragazzi perché vediamo anche Nasdaq non va bene assolutamente quindi come ben sapete come vi sto dicendoci da un po' dobbiamo assolutamente provare a fare questa cosa quindi l'idea è cavalcare questa onda ragazzi va bene quindi è quello che stiamo cercando di fare è trading di medio periodo ve lo dico in maniera molto chiara non è una posizione per holder non c'è tra niente con gli holder quindi è proprio trading puro però è ghiotta ragazzi perché? perché in queste situazioni spesso ci sono poi dei movimenti interessanti perché vedete qui se facciamo una cosa del genere ce ne andiamo di un 30% per cui perché lasciare una posizione del genere quando addirittura si può anche optare per una leggera leva da 1.2 due punti di leva insomma del 2 per e vi portate a casa il 60% che è un rendimento stratosferico con una sola operazione insomma ragazzi il trading si fa anche così quindi insomma fermo restando le questioni però questa posizione è estremamente rischiosa quindi non è gestibile con molta facilità ci sono dei segnali di conferma che ora vi dico quindi da un punto di vista ciclico bisogna attendere questa chiusura questo minimo è sufficiente ma diciamo non è proprio al limite perché c'è ancora un po' di tempo quindi ci sarebbe in realtà la possibilità che il mercato continui questa sua struttura anche per un'altra decina di giorni 15 giorni circa e che quindi questa fase sia metà di questo ciclo in pratica e quindi sia una cosa del genere dove poi fa una cosa così e chiude tutto il movimento e questa è un po' la mia paura ve lo dico in maniera chiara quindi da un punto di vista ciclico ancora non abbiamo grandi conferme sicuramente un primo livello importantissimo è il superamento dei 42.000 dollari confermato almeno in chiusura della giornata dopodiché avremo il livello più importante che è questa media mobile cioè la media ormai la conoscete quella è la media a 21 giorni che deve essere superata ragazzi sicuramente quindi è molto lontana quindi per avere una vera struttura di rialzo ciclico bisogna andare in sostanza sopra questi livelli qui è una conferma molto alta per cui puoi andare a prendere posizione da trader a quei livelli di prezzo è un po' fuori portata perché poi si rischia troppo in quanto il livello di stop poi è troppo in basso ragazzi quindi non va bene non si può optare per questo tipo di strategia perché il rischio rendimento è a render quindi il rischio dell'operazione sul reward è troppo sbilanciato quindi o si anticipa questo tipo di operatività o non si fa nulla perché non c'è niente da fare questa è la situazione ecco il motivo diciamo per il quale stiamo optando per queste strategie estremamente più tecniche perché non c'è altro modo di agire però in sostanza se vedete i bitcoin superare i 42 posizionarsi confermare questa struttura poi dovremmo stare in allerta per capire se sta facendo questa struttura tecnica in questo modo oppure inizia proprio un ciclo e se ne va lì allora ragazzi come sempre i mercati quando danno alcune ghiotte operazioni non sono semplici non è possibile che sia così quindi bisogna agire di tecnica e qui interviene proprio la formazione sul trading e sulla capacità di poter gestire queste operazioni a livello tecnico intanto la conferma comunque della fase di rimbalzo la sta dando nella giornata di oggi fermo restando che deve superare il 42.000 per avere più slancio andiamo a vedere invece quello che è il Nasdaq perché vi avevo indicato la questione la questione Nasdaq è sempre legata all'unica grande domanda da qui è iniziato un nuovo annuale se sì è ribassista se invece l'annuale di Nasdaq è iniziato qui ragazzi allora noi abbiamo modo di stare più alti se l'annuale di Nasdaq è iniziato nell'ultimo minimo a marzo ragazzi e non a quello a ottobre allora a questo punto anche l'intera visione ciclica di bitcoin potrebbe modificarsi nell'arco dei prossimi mesi questa è simpaticissima perché io non vi dico queste cose prima perché vi confondo ragazzi perché nel momento in cui noi stiamo attendendo un atteggiamento del mercato dobbiamo seguire quella che è la strategia in questi rassi temporali poi in questo momento le carte non sono chiarissime su tutti questi mercati siccome esiste una correlazione molto forte tra bitcoin e Nasdaq non si può non valutarla se non la si valuta in pratica è come dire vado alla check c'è un senso se il mercato ci dà una informazione in più usiamola perché no quindi quando andiamo ad aggiungere questa informazione ci troviamo un po' spiazzati e per i mesi successivi potrebbero cambiare tante carte quindi cosa si fa si ragiona con un lasso di tempo accettabile quindi in questo momento seguiamo l'idea e l'aspettativa che bitcoin possa fare il raggiungimento di 52 56 che è un target accettabile per il 2022 e soprattutto ci leva a un po' di impicci anche di paura di un mercato bear market molto pronunciato se le cose dovessero girare storte ma quando saremo se saremo lì ragazzi se non saremo lì funziona malissimo ve lo dico già ma se per caso arriviamo là poi bisogna valutare questa informazione che vi sto dicendo cioè se Nasdaq l'annuale l'ha iniziato a marzo allora allunga anche i tempi probabilmente di bitcoin e quindi si sposterà tutto più avanti allora perché no bitcoin potrebbe anche resistere ancora di più però sono idee che se noi andiamo a ragionare così veramente prendo adesso la palla di vetro e la metto lì non ha senso che ve lo dico ora ve lo dico a lui ragazzi ecco perché non è che insomma sto tralasciando informazioni è semplicemente per evitare di confondere la questione allora al momento Nasdaq non non ha dato nessun segnale da questo rimbalzo sta respirando la questione dell'analisi macro che abbiamo visto anche nel video famoso questo video che vi ho detto uno dei più portati del 2022 non è positiva almeno secondo Arthur Reyes e in realtà non ci sono dati positivi al momento fermo restando come vi ho detto anche in quel video io sono sempre un trend follower perché al di là delle idee generali i prezzi comandano sempre su tutto e nel momento in cui c'è un'informazione che noi non conosciamo una simmetria poi esce fuori dopo poi i mercati sono già partiti e noi siamo fuori quindi poi magari cambiano le analisi cambiano le prospettive magari la Federal Reserve ha un asso nella manica lo tira fuori ma noi non lo conosciamo i mercati si anticipano e noi siamo fuori ecco perché io sono sempre un trend follower perché in quel modo io sono sempre avanti e nel momento in cui poi mi esce la news mi esce la questione poi decido se quella news mi piace o meno ma almeno sono già dentro il mercato tutto qui al momento questi sono circa un mesetto di Nasdaq quindi 35 giorni quindi Nasdaq potrebbe riniziare un nuovo ciclo mensile proprio in questa fase non li valuto io i cicli mensili di Nasdaq in questo momento perché il mercato hold non è insomma non mi piace guardarlo così preferisco guardarlo più ad ampio aspetto però in realtà potrebbe iniziare una nuova fase laddove dovesse superare i 15.470 punti quindi 15.005 Nasdaq indicherebbe che da qui è iniziata una nuova fase ciclica più pronunciata resterebbe ancora la possibilità di un semplice semestrale quindi una cosa del genere però sicuramente ragazzi aumenta molto la forza nel frattempo se resta qui in questa zona e magari fa il rimbalzo senza superare questo massimo insomma tutto girerà molto di più sull'idea che qui la questione sia una cosa del genere quindi bisogna stare attenti un po' alla situazione sicuramente il superamento della media mobile questa è a 26 settimane perché eccola qui ragazzi quella semestrale risulterebbe molto rilevante per Nasdaq è una media a 15.000 punti 15.200 dovrebbe essere confermata però al rialzo in close settimanale andiamo a vedere invece i grafici della di Ethereum total market cap della DeFi ma prima di andare a vedere questi qui soprattutto la total market cap della DeFi si difende ancora forza DeFi veramente top in questo contesto vi faccio vedere la questione un po' legata al punto interrogativo di tanti in questo momento cioè Bitcoin Ethereum ma anche Nasdaq stesso stanno disegnando una figura di continuazione di un trend ribassista questa figura di continuazione si chiama la bear flag vi faccio vedere intanto come è strutturata una bear flag cioè è fatta così ragazzi questa che vedete qui questa è la bull quando fa una in pratica ragazzi è una bandierina che va ad essere disegnata in controtendenza con il trend principale quindi se il trend principale è rialzista la bull flag fa una correzione di un trend rialzista per poi riprendere in questo caso sembra proprio questa ragazzi cioè una bear flag è ovviamente inopinabile che in pratica vediamolo sul Nasdaq su scusate Ethereum è inopinabile che questa sia attualmente palesemente quel tipo di figura c'è da dire che però una bear flag ha bisogno poi di una serie di conferme e che questo trend non è un trend ribassista così pronunciato da far sembrare quel tipo di figurazione di analisi tecnica molto molto simile in realtà è definibile una bear flag ma con molta 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 diciamo tralasciando molte informazioni vi faccio capire la differenza intanto qui è vero che abbiamo un trend ribassista ma è di medio periodo è all'interno anche di una fase di congestione del mercato nel medio lungo quindi in sostanza questo non è niente ragazzi è semplicemente una correzione in barra quindi è un su e giù quindi in realtà questa bear flag su Ethereum esiste però non è di un trend di lungo o medio o lungo periodo ma è semplicemente nel brevissimo e per essere cioè il trend che vada qui in pratica c'è un trend di breve di qualche mese ragazzi che però è una correzione all'interno di una barra quindi non è nemmeno un trend che ha invertito qualcosa questa correzione qui bear flag ok ci assomiglia però in pratica avviene all'interno di una barra di congestione più lunga del mercato quindi non in una inversione di trend guardate la differenza è assolutamente visibile la differenza è all'interno di una congestione dove il mercato in pratica fa su e giù ragazzi senza grandi aspettative e si trada con i movimenti più piccoli quindi i trader qui ci fanno veramente un sacco di profitto proprio perché il mercato resta imbavagliato come vedete da maggio del 2021 quasi un anno in pratica i mercati cripto sono imbavagliati con grandi trend ma all'interno di una super barra di congestione quindi qui i trader ci sguazzano ragazzi proprio regolare a livello hold non cambia nulla è tutto fermo diciamo grandi rischi o grandi possibilità ma niente poi non svolge mai perché non rompe né su né giù quindi questa bear flag io non la vedo ragazzi come una figura di continuazione di un trend che è invertito così perché mi sembra molto lunga se il trend che prendo in considerazione è questo qui che è piccolino una bear flag di tre mesi mi sembra un po' eccessiva perché praticamente è identica alla durata del trend medio in sostanza vi sto dicendo che dal mio punto di vista l'analisi la figurazione c'è e si può guardarla proprio fatta così quindi sarebbe il trend in questo modo poi la bear flag se rompe qui scende in questo punto portandosi di nuovo vicino ai 2000 punti quindi questa è la struttura quindi si può considerare però è un po' un azzardo cioè non è proprio proprio la morte sua come si suol dire qui quando si parla di cucina perché in sostanza questa flag sta durando un po' troppo quindi io la preferisco analizzare da un punto di vista ciclico perché mi sembra un po' più corretta questa è una barra di congestione e questi sono dei cicli interni a una barra di congestione fermo restando che questa figura tenetela comunque a mente perché in realtà in realtà c'è tutta questa manprina però non viene confermata quindi una fase ribassista da quelli che sono dei dati di natura macro per esempio quelli che sono i depositi di exchange perché giusto a titolo un po' anche informativo ragazzi vi faccio vedere quelle che sono le fuoriuscite di bitcoin dagli exchange questo super trend ribassista delle riserve di bitcoin presenti sugli exchange continua ragazzi sta continuando e questo si che ha fatto la bear flag in questo caso la vedete che è questa zona qui vedete come in questo caso cambia radicalmente è proprio molto evidente e sembra sia andando veramente verso minimi storici allora che cosa significa una cosa del genere lo vediamo anche su ethereum è uguale su ethereum dalla 2020 da agosto del 2020 c'è una fuoriuscita di criptovalute dagli exchange così come avviene su bitcoin ora è un po' difficile ve lo dico in maniera molto chiara andare a far combaciare questa roba qui con l'inizio di bull run si è vero che abbiamo dei dati vi faccio vedere questi dati che sono interessanti simpatici sempre da guardare per esempio il minimo in questione che è addirittura un po' sopra quello precedente ha innescato la bull run del 2020 vedete però ragazzi non è confermato per esempio da quest'altra bull run che è stata piccolina però c'è stata dove addirittura invece qui salivano e il mercato andava su insomma qui è sceso poi quando ha toccato il massimo il mercato è andato su quindi nonno quando ha toccato il minimo in sostanza sembra non ci sia alcuna correlazione tra i movimenti di prezzo e le riserve di bitcoin presenti negli exchange termorestando che da un punto di vista macro sicuramente nel lungo periodo una cosa del genere è significativa ma nel medio periodo probabilmente non ha un impatto uniforme sui movimenti dei prezzi probabilmente ragazzi ci sarà probabilmente una correlazione che magari vedremo nell'arco di 5 anni ma non riusciamo a risalire in così breve tempo al significato di questa fuoriuscita di bitcoin sicuro avverrà uno shock di domanda però il problema è questi bitcoin che escono vengono poi tradati in otc per esempio escono degli exchange per andare dove escono perché c'è il problema della regolamentazione e vengono spostati su altri tipi di exchange dove risultano tracciabili non tracciabili bisogna ragionare un po' su queste cose prima di tirar fuori dal cappello magari delle ideologie delle idee generali statistiche che poi non vengono confermate in ogni caso è sicuramente un dato fondamentale positivo quindi che ci dà ancora di più conferma di quello che ci siamo detti la scorsa settimana dopo bitcoin 2022 cioè le cripto sono qui per restare bitcoin è qui per restare ragazzi non è qui è come mira non è più il concetto del dire forse resiste o poi viene distrutto e gli Stati Uniti lo stanno abbracciando quindi l'analisi fondamentale proprio delle fondamentale delle cripto per i prossimi 5 anni è positiva ma questo grafico non riesce a spiegarci e a darci un'informazione magari che può essere utilizzata da qui ai prossimi 7-8 mesi questo è il tutto però è un dato assolutamente positivo perché sembrerebbe veramente essere vicino ad uno shock di offerta presente sugli exchange se arrivano a balena su un exchange che vuole comprare non li trova più i bitcoin ragazzi ma il problema è che le balene ormai non sono più come nel 2018-2019 vanno in OTC direttamente non vanno su un exchange a comprarlo cioè si mettono d'accordo prima direttamente e vanno a comprarsi bitcoin direttamente con un compratore con un venditore che gliene vende 100.000 faccio per dire altrimenti ragazzi anche MicroStrategy quando farebbe gli acquisti noi vedremo questi app e questi pump improvvisi invece non è così quindi queste cose qui ci danno un'indicazione secondo me che è meglio valutarla a livello fondamentale quindi il mercato è solido e si vede perché i bitcoin stanno uscendo degli exchange quindi escono dal trading ragazzi questo è il concetto sempre di più si probabilmente si va a possederli come forma di valore quindi di store value magari che è un po' il concetto che ci stiamo sempre attendendo andiamo a finire tutta la nostra analisi con la Total Market Cup della DeFi e poi tiriamo giù le conclusioni per questa settimana bella inversione nella giornata di lunedì e martedì confermata da questo più 7 della settimanale della Total Market Cup della DeFi ancora qui ragazzi vedete che il massimo adesso è molto più in alto e abbiamo dei dati che sono fondamentali un massimo un massimo più basso ce la farà a fare una cosa del genere perché se non ce la fa cosa succede che questa struttura si unisce in un trend ribassista che è esattamente un canale discendente lasciate stare le mie linee che porterebbe poi alla chiusura del ciclo annuale anche nel mondo della DeFi attenzione perché anche qui ragazzi si conferma tutto quello che io vi sto dicendo da un po' è importante mantenerci alti fino maggio se riusciamo a raggiungere i 52 Total Market Cup della DeFi si spostano in questa zona qui per esempio verso maggio che ancora c'è tempo siamo a cavallo ragazzi perché perché teoricamente sulle serie storiche questo è l'anno del mercato orso per i mercati cripto quindi se noi gestiamo un anno del mercato orso in una barra di congestione laterale ribassista poco poco però laterale è il primo traguardo per un mercato come il settore cripto non bisogna sempre urlare alla boom 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 ragazzi a volte bisogna anche consolidare attendere in un mercato come quello attuale resistere secondo me è veramente il grande obiettivo disegnare un mercato orso tra virgolette in barra di congestione è il vero obiettivo se anche le Total Market Cup della DeFi riescono a ottenere questo obiettivo siamo a cavallo quindi al mio avviso il concetto attuale è resistere ragazzi fare il più il massimo più alto possibile in questa fase verso maggio insomma giugno tra aprile e giugno era l'arco temporale dopodiché magari vedere cosa succede se Nasdaq conferma l'annuale ribassista o meno insomma ci aggiorniamo però almeno siamo su un prezzo più alto attualmente questo rimbalzo è praticamente un rimbalzo abbastanza scontato vediamo se riesce a sostenerlo nella prossima settimana spostandosi spostandosi in questa zona tutto dipenderà chiaramente anche da Bitcoin ci sono delle cripto come Luna per esempio che hanno ieri hanno reagito notevolmente con un rialzo importantissimo 18% indicando in pratica la chiusura di un ciclo probabilmente da il classico ciclo da 80 giorni che fanno le criptovalute come Luna e da qui dovrebbe essere l'ultimo ciclo quello che le porterà poi Luna in sostanza la chiusura del suo annuale perché Luna è anticipatrice sembrerebbe essere prima degli altri ne parleremo però nel prossimo video perché il prossimo video facciamo un focus solo sulle cripto vediamo alcune cripto che sono ribassiste che sono deboli che potrebbero essere utili per farvi fare delle operazioni di copertura se delle cose devono essere girate storte e vediamo invece quelle che sono forti che cosa stanno facendo la classica top cripto per il mese che verrà aprile fino aprile mangio però in sostanza andiamo un po' ad aggiornare i grafici ma non li vediamo da tanto per oggi è tutto video di me martedì invece di lunedì ma è uguale come sempre noi ci vediamo nel prossimo video ciao raga ciao